Paolo da persecutore diventa anche lui amico e fratello dei tanti fratelli, delle tante persone amiche, ecco, del Signore, i seguaci, i primi cristiani. Ecco, fratelli e sorelle, vogliamo chiedere in questa liturgia, in questa celebrazione eucaristica, in questo momento in cui spezzeremo il pane, ecco, di togliere, ecco, di chiedere al Signore di togliere dai nostri occhi questo velo e di comprendere che in quel pane, in quel vino, ecco, c'è proprio Lui, c'è Lui che si dona per noi, per amore. Il suo Vangelo non trova, non trova ostacoli, Lui si spezza per amore, si dona e il Signore chiede anche a noi di fare lo stesso, di donarci anche noi agli altri. Ecco, fratelli e sorelle, accogliamo queste parole e chiediamo in questo mese di maggio, in questo mese meraviglioso, bello, in cui invochiamo, ecco, la Vergine Santissima, invochiamo la Vergine Santissima, ecco, perché ci accompagni giorno per giorno ad ascoltare la Sua parola. Lei che ha detto, fate quello che Egli vi dirà. Ecco, facciamo quello che il Signore ci dice e ci dirà ogni giorno, per vivere una vita più vera, una vita risorta in Cristo, così sia.